È stato rinvenuto il corpo di Leopoldo Celegon attorno alle 11.30, i forristi dei Vigili del Fuoco hanno individuato il 72enne senza vita riverso tra le acque del torrente costeana. La giornata di sole ha infatti consentito una ricerca più accurata ed efficace, dato che il livello del fiume in queste ore si era notevolmente abbassato. Dopo il ritrovamento di alcuni suoi oggetti, i soccorritori si erano concentrati lungo il corso d'acqua, ai lati e all'interno, fino alla diga Dayal, completamente svuotata, 50 metri più in basso rispetto al luogo dove era stato trovato lo zaino di Celegon, è stato visto il corpo posizionato in una pozza d'acqua vicino a un tronco. Recuperata, la salma è stata trasportata fino a campo, assieme ai Vigili erano presenti il soccorso alpino di Cortina, il soccorso alpino della Guardia di Finanza di Cortina e i carabinieri, l'uomo, un cardiologo di Castelfranco Veneto, era uscito domenica scorsa per andare a funghi, il suo mancato ritorno aveva fatto scattare le ricerche e conclusesi, purtroppo, in maniera tragica.